ringraziare chi mi ha portato a Caserta perché per dieci anni ho atteso questo giorno, avevo un debito morale, con tanti sacrifici avevo costruito una squadra che doveva spadroneggiare in cipo e non fummo ripescati e onestamente nel momento in cui ho avuto la possibilità, sono stato chiamato per allenare la Casertana, credetemi, io non ho esitato e tutte le trattative che chiunque mi avesse chiamato, per me il mio desiderio illimitato era ritornare in questa piazza, poi per come sono stato accolto in me accrescono i debiti verso questa piazza, accrescono chiedoveni alle responsabilità e quindi ogni discorso diventa superfluo, io ho due obiettivi, inizio subito, io non ho nulla da ringraziare a nessuno, quello che mi sono costruito me lo sono costruito attraverso il campo, la gavetta, i sacrifici, l'onestà, la moralità, il mio modo di essere che non l'ho mai cambiato e probabilmente ha fatto sì che la mia carriera non per presunzione non fosse stata come quella di tanti altri miei colleghi, ma sono fieri e orgoglioso di essere me stesso, io ho due obiettivi immediati, quello di portare la casertana con estrema immediatezza in C1 senza ombra di dubbio e il secondo obiettivo altrimenti avrò fallito, se ne fallisco uno dei due ho fallito, portare in una partita quantomeno in una 10.000 persone allo stadio, questo è il mio obiettivo. Io volevo Caserta, parola d'onore e quindi speravo che tutto si risolvesse e ahimè facevo il tifo che qualche squadra venisse esclusa, anche se non lo devo dire, però io volevo venire a Caserta tra i professionisti e stare soltanto un anno in C2 e fare, io sono di poche parole, non dico il campionato è difficile perché lo sapete tutti, sarà un campionato difficilissimo, però io posto due obiettivi, 10.000 persone allo stadio e portare immediatamente la squadra in C1, altrimenti ho fallito, lo dico in conferenza a Sam, io non mi nascondo, non sono come altri, ma mi, mo, pa, po, no. Grazie a tutti. A Bazzarella gli avete fatto l'applauso più importante perché quindi volevo innanzitutto ringraziare tutti gli amici con i quali mercoledì sottoscriveremo l'aumento di capitale che poi sarà contestuale al rilascio della fiduzione che presenteremo entro il 29 luglio. Noi diciamo che domani, oggi ho fatto il viaggio in treno con l'Avvocato Colonna che è consigliere federale, quindi praticamente mi ha garantito che entro domani la Federcalcio praticamente darà praticamente l'elenco delle società ammesse che potranno fare la domanda di ripescaggio dove noi saremo addirittura al primo posto perché la Samba di Lettese è stata costituita dalla Vecopo Verona, quindi praticamente noi saremo al primo posto nella grado di colonna. voglio solo fare una brevissima diciamo affermazione e poi passo la parola agli altri amici, anche perché qui tra poco secondo me dobbiamo chiamare il cardiolo, moltissime persone, giornalisti anche addetti allo sport, addetti ai lavori ci hanno chiesto ma perché fate la domanda di ripescaggio, tenuto conto che quest'anno vincendo il campionato di Serie D si va direttamente in C1, perché vi impegnate così economicamente con questa fiduzione, con questo aumento di capitale, con questo impegno e così via? Perché io ne ho parlato con i miei soci e abbiamo deciso che a noi ci piacciono le guerre, le battaglie, quest'anno il campionato di Serie C2 sarà come una Serie C1, forse più forte, andremo a giocare su campi dove voi non giocavate da vent'anni praticamente, quindi si tratterà secondo me di prepararci a una grande guerra, poiché noi siamo abituati a fare le guerre nelle nostre attività lavorative, non ci spaventa anche la guerra calcistica, quindi per me è molto più bello fare questo campionato di Serie C e dico con molta, ma senza polemica, la Serie D lasciamola all'Agropoli, 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 all'Agropoli e a Santa Maria Camovente. Il progetto che c'ha Giovanni in testa lo conosciamo tutti quanti, sicuramente state tranquilli, noi non ci accontentiamo, questo è un punto di partenza, io ho sempre detto, io ci credevo, Ma questo è il punto di partenza per trovare tantissima altra gente che dà una mano alla casettana calcio. L'ultimo concetto, fidatevi, non vi abbiamo mai detto che essere io, né in politica né dal punto di vista dello sport. Però comprendete pure che chiaramente chi vi parla è sollicitato dalla Juve Casetta, dalla Volato e da tante altre realtà sportive che giustamente sono presenti sul territorio. E se non sono sollicitato io, sono sollicitato Pasquale che non sa più a chi deve aiutare. Quindi voglio dire, fidatevi, abbiamo trovato dopo 20 anni un grande presidente. E' il primo caso dove l'allenatore si è presentato da solo praticamente. Voglio dire all'allenatore due cose. Uno, che se non vince con l'ISC e con la Versa Normana verrà isolerato. Voglio chiedere a Capuano, il motivo per cui Capuano è a casetto è solo uno. E me l'ha detto, per questo motivo l'abbiamo preso. Capuano mi ha detto, tu vuoi andare a fare il derby contro lo Tito con la Salernitana? Prendimi come allenatore, adesso vediamo che sei il capace di... Prendimi come allenatore, adesso vediamo che sei il capace di... Prendimi come allenatore, adesso vediamo che sei il capace di...